la mia maestra di prima superiore 27 giovedì la mia maestra ha mantenuto la promessa è venuta oggi a casa nel momento che stavo per uscire con mia madre per portare biancheria a una donna povera raccomandata dalla gazzetta era un anno che non l'avevamo più vista in casa nostra tutti le abbiamo fatto festa è sempre quella piccola col suo velo verde intorno al cappello vestita alla buona e pettinata male che non ha tempo di rilasciarsi ma un poco più scolorita che l'anno passato con qualche capello bianco e tosse sempre mia madre gliel'ha detto e la salute cara maestra lei non si riguarda abbastanza non importa ha risposto col suo sorriso allegro e insieme malinconico lei parla troppo forte ha soggiunto mia madre si affanna troppo coi suoi ragazzi è vero si sente sempre la sua voce mi ricordo di quando andavo a scuola da lei parla sempre parla perché i ragazzi non si distraggano e non sta un momento seduta ero ben sicuro che sarebbe venuta perché non si scorda mai dei suoi scolari mi rammenta i nomi per anni i giorni d'esame mensile corre a domandare al direttore che punti hanno avuto gli aspetta l'uscita e si fa mostrare le composizioni per vedere se hanno fatto progressi e molti vengono ancora a trovarla dal ginnasio che ha già i calzoni lunghi e l'orologio quest'oggi tornava tutta affannata dalla pinacoteca dove aveva condotto i suoi ragazzi come gli anni passati che ogni giovedì li conduceva tutti al museo e spiegava ogni cosa povera maestra è ancora dimagrita ma è sempre viva allora sempre quando parla della sua scuola ha voluto rivedere il letto dove mi vide molto malato due anni fa e che ora è di mio fratello ma ha guardato un pezzo e non poteva parlare ha dovuto scappar presto per andare a visitare un ragazzo della sua classe figliolo di un sellaio malato di rosolia e aveva per di più un pacco di pagine da correggere tutta la serata da lavorare e doveva ancora dare una lezione privata d'aritmetica a una bottegaia prima di notte ebbene enrico ma detto andandosene vuoi ancora bene alla tua maestra ora che risolvi i problemi difficili e fai le composizioni lunghe ma baciato ma ancora detto di in fondo la scala non mi scordare sai enrico o mia buona maestra mai mai ti scorderò anche quando sarò grande mi ricorderò ancora di te e andrò a trovarti fra i tuoi ragazzi e ogni volta che passerò vicino a una scuola e sentirò la voce di una maestra mi parrà di sentir la tua voce e ripenserò ai due anni che passai nella scuola tua dove imparai tante cose dove ti vidi tante volte malata e stanca ma sempre premurosa sempre indulgente disperata quando uno pigliava un malrezzo delle dita a scrivere tremante quando gli ispettori ci interrogavano felice quando facevamo buona figura buona sempre amorosa come una madre mai mai mi scorderò di te maestra mia in una soffitta 28 venerdì ieri sera con mia madre con mia sorella silvia andammo a portare la biancheria alla donna povera raccomandata dal giornale io portai il pacco silvia aveva il giornale con le iniziali del nome e l'indirizzo salimmo fino sotto il tetto di una casa alta in un corridoio lungo dove erano molti usci mio padre picchiò all'ultimo ci ha perso una donna ancora giovane bionda e macilenta che subito mi parve di aver già visto altre volte con quel medesimo fazzoletto turchino che aveva in capo siete voi quella donna del giornale così e così domandò mia madre sì signora sono io ebbene abbiamo portato un poco di biancheria e quella a ringraziare e a benedire che non finiva più io intanto vedi in un angolo della stanza nuda e scura un ragazzo inginocchiato davanti a una seggiola con la schiena volta verso di noi che parea che scrivesse e proprio scriveva con la carta sopra la seggiola e aveva il calamaio sul pavimento come faceva a scrivere così al buio mentre dicevo questo tra me ecco a un tratto che riconosco i capelli rossi e la giacchetta di frustagno di crossi il filvolo dell'erbivendolo quello del braccio morto io lo dissi piano a mia madre mentre la donna riponeva la roba zitto rispose mia madre può essere che si vergogni a vederti che fai la carità alla sua mamma non lo chiamare ma in quel momento crossi si voltò io rimasi imbarazzato e gli sorrise e allora mia madre vi diede una spinta perché corresse ad abbracciarlo io l'abbracciai e gli si alzò e mi prese per mano eccomi qui diceva in quel mentre sua madre alla mia sola con questo ragazzo il marito in america da sei anni io per giunta malata che non posso più andare in giro con la verdura a guadagnare quei pochi soldi non c'è rimasto nemmeno un tavolino per il mio povero luigino da farci il lavoro quando c'avevo il banco giù nel portone almeno poteva scrivere sul banco ora me l'ha levato nemmeno un poco di lume da studiare senza rovinarsi gli occhi e grazie se lo posso mandare a scuola che il municipio gli dà i libri e i quaderni povero luigino che studierebbe tanto volentieri povera donna che sono mia madre le diede tutto quello che aveva nella borsa mia madre le diede tutto quello che aveva nella borsa baciò il ragazzo e quasi piangeva quando uscimmo e aveva ben ragione di dirmi guarda quel povero ragazzo come costretto a lavorare tu che hai tutti i tuoi comodi e purti per duro lo studio ah enrico mio c'è più merito nel suo lavoro di un giorno che nel tuo lavoro di un anno a quelli lì dovrebbero dare i primi premi la scuola 28 venerdì sì caro enrico lo studio ti è duro come ti dice tua madre non ti vedo ancora andare alla scuola con quell'animo risoluto e con quel viso di dente che io vorrei tu fai ancora il restio ma senti pensa un po che misera spregevole cosa sarebbe la tua giornata se tu non andassi a scuola a mani giunte a capo a una settimana domanderesti di ritornarsi rosso dalla noia e dalla vergogna stomacato dei tuoi tre stulli e della tua esistenza tutti tutti studiano ora enrico mio pensa agli operai che vanno a scuola la sera dopo aver faticato tutta la giornata alle donne alle ragazze del popolo che vanno a scuola la domenica dopo aver lavorato tutta la settimana ai soldati che mettono mano ai libri ai quaderni quando tornano spossati dagli esercizi pensa ai ragazzi muti e ciechi che pure studiano e fino ai prigionieri che anch'essi imparano a leggere e a scrivere pensa la mattina quando esci che in quello stesso momento nella tua stessa città altri 3.000 ragazzi vanno come te a chiudersi per tre ore in una stanza a studiare ma che pensa agli innumerevoli ragazzi che presso a poco a quell'ora vanno a scuola in tutti i paesi vedeli con l'immaginazione che vanno vanno per i vicoli dei villaggi quieti per le strade delle città rumorose lungo le rive dei mari e dei laghi dove sotto un sole ardente dove tra le nebbie imbarca nei paesi intersecati da canali a cavallo per le grandi pianure in slitta sopra le nevi per valli e per colline attraverso a boschi e a torrenti su per sentire solitari delle montagne soli a coppie a gruppi a lunghe file tutti coi libri sotto braccio vestiti in mille modi parlanti in mille lingue dalle ultime scuole della russia quasi perdute fra i ghiacci alle ultime scuole dell'arabia ombreggiate dalle palme milioni e milioni tutti a imparare in cento forme diverse le medesime cose immagina questo vastissimo formicolio di ragazzi di cento popoli questo movimento immenso di cui fai parte e pensa se questo movimento cessasse l'umanità ricadrebbe nella barbarie questo movimento è il progresso la speranza la gloria del mondo coraggio dunque piccolo soldato dell'immenso esercito i tuoi libri sono le tue armi la tua classe e la tua squadra il campo di battaglia e la terra intera e la vittoria e la civiltà umana non essere un soldato codardo enrico mio tuo padre il piccolo patriotta padovano racconto mensile 29 sabato non sarò un soldato codardo no ma ci andrei molto più volentieri alla scuola se il maestro ci facesse ogni giorno un racconto come quello di questa mattina ogni mese disse ce ne farà uno e ce lo darà scritto e sarà sempre il racconto di un atto bello e vero compiuto da un ragazzo il piccolo patriotta padovano si intitola questo ecco il fatto un piroscofo francese partì da barcellona città della spagna per genova e c'erano a bordo francesi italiani spagnoli svizzeri c'era fra gli altri un ragazzo di 11 anni mal vestito solo che se ne stava sempre in disparte come un animale selvatico guardando tutti con l'occhio torvo e aveva ben ragione di guardare tutti con l'occhio torvo due anni prima suo padre e sua madre contadini nei dintorni di padova l'avevano venduto al capo di una compagnia di saltimbanchi il quale dopo avergli insegnato a fare i giochi a furia di pugni di calci e di digiuni se l'era portato attraverso alla francia e alla spagna picchiandolo sempre non sfamandolo mai arrivato a barcellona non potendo più reggere alle percossi e alla fame ridotto in uno stato da far pietà era fuggito dal suo aguzzino e corso a chiedere protezione al console d'italia il quale impietosito l'aveva imbarcato su quel piroscafo dandogli una lettera per il questore di genova che doveva rimandarlo ai suoi parenti ai parenti che l'aveva venduto come una bestia il povero ragazzo era lacero e malaticcio e aveva andato una cabina nella seconda classe tutti lo guardavano qualcuno lo interrogava ma egli non rispondeva e pareva che odiasse e disprezzasse tutti tanto l'avevano in asprito e intristito le privazioni e le busse tra i viaggiatori non di meno la forza di insistere con le domande riuscirono a fargli snodare la lingua e in poche parole rozze miste di veneto di spagnolo e di francese egli raccontò la sua storia non erano italiani quei tre viaggiatori ma capirono e un poco per compassione un poco perché citati dal vino gli diedero dei soldi celiando e stuzzicando perché raccontasse altre cose ed essendo entrate nella sala in quel momento alcune signore tutti e tre per farsi vedere gli diedero ancora del denaro gridando piglia questo piglia quest'altro e facendo suonare le monete sulla tavola il ragazzo intascò ogni cosa ringraziando a mezza voce col suo fare burbero ma con uno sguardo per la prima volta sorridente e affettuoso poi si arrampicò sulla cabina tirò la tenda e stette quieto pensando ai fatti suoi con quei denari poteva assaggiare qualche buon boccone a bordo dopo due anni che stentava il pane poteva comprarci una giacchetta appena sbarcato a genova dopo due anni che andava vestito di cenzi e poteva anche farsi accogliere da suo padre e da sua madre un poco più umanamente che non l'avrebbero accolto se fosse arrivato con le tasche vuote erano una piccola fortuna per lui quei denari e a questo gli pensava racconsolato dietro la tenda della sua cabina mentre i traviaggiatori discorrevano seduti alla tavola da pranzo in mezzo alla sala della seconda classe bevevano e discorrevano dei loro viaggi e dei paesi che avevano veduti e di discorso in discorso vennero a ragionare dell'italia cominciò uno a lagnarsi degli alberghi un altro delle strade ferrate e poi tutti insieme infervorandosi presero a dir male ad ogni cosa uno avrebbe preferito di viaggiare in lapponia un altro diceva di non aver trovato in italia che truffatori e briganti il terzo e gli impiegati italiani non sanno leggere un popolo ignorante ripete il primo sudicio aggiunse il secondo la esclamò il terzo e voleva dire ladro ma non pote finire la parola una tempesta di soldi e di mezze lire si rovesciò sulle loro teste sulle loro spalle e saltellò sul tavolo e sull'impiantito con un fracasso d'inferno tutti e tre salzarono furiosi guardando all'insù e ricevettero ancora una manata di soldi in faccia ripigliatevi i vostri soldi disse con disprezzo il ragazzo affacciato fuori dalla tenda della cucetta io non accetto l'elemosina da chi insulta il mio paese di solito